Amici sportivi, amici juventini, siamo a Boutique 12 a Milano, un luogo incantevole per i cocktail, per chi ama bere bene, perché qui lavora un bar chef che non fa solo cocktail, ma mischia sapori, tendenze, elementi, profumi e con lui dedicheremo dei cocktail alla grande Juventus, ad Andrea Agnelli, al grande Buffon e ovviamente al mister Allegri. Andiamo da Flavio Esposito e con lui lavoriamo sul cocktail. Eccoci Flavio, ben trovato, ben trovato a te, grazie della disponibilità, quindi incominciamo con il cocktail dedicato ad Andrea Agnelli, cosa hai pensato? The Last Lord, l'ultimo uomo. L'ultimo uomo, l'ultimo dei grandi, l'ultimo dei membri della famiglia Agnelli e quindi che ingredienti, ho fatto una ricerca su ingredienti totalmente piemontesi per richiamare le origini prodotti della famiglia e dei prodotti anche innovativi, un po' più tradizionali, ma innovativi per dedicarci al mercato, per nuovi innesti, nuovi prodotti. Trociamo le dita per il mercato, pensiamo ai nuovi innesti e soprattutto alla tradizione che Torino ha dato alla grande Juventus, che poi è diventata ovviamente famosa in tutto il mondo, ma l'origine resta e giustamente Flavio ha scelto. Iniziamo con Alpestre, prodotto storico di Carmagnola. Ecco, vedete la cura e la mano del grande... Il vermo del professore. Il vermo del professore. Dei ragazzi di Gerry Thomas e di Silele di Quaglia. Sì, Quaglia, certo. Dove ci sono grandi prodotti del territorio. E' un prodotto tradizionale, ma innovativo, perciò per rinnovire. Come la squadra, tradizione e innovazione. E' malaschino luxato, prodotto storico. E qua aggiungiamo il succo di limone. Aggiungiamo il succo di limone, per dare un po' di acidità, quella giusta che serve nel trovare i giusti elementi per completare la squadra che già sta andando alla grande, ma può sempre andare meglio. Intanto facciamo i complimenti ad Andrea Agnelli per la gestione di una società non facile, che lui ha portato a grandi risultati. Ecco lui. Profumi. Come dicevo, non sono cotti semplici. Questi sono come quando i grandi profumieri preparano una essenza particolare. E lui è così. L'uomo è di questa fattura. E andiamo a versare il liquido. Eccoci qua. Eccoci qua. Questo è The Last Lord. The Last Lord. Dedicato al residente Agnelli. Eccoci qua. Oli essenziali del limone. Guardate che meraviglia. E poi terminiamo con una ciliegina rosso Ferrari. E come si suol dire. Caro Andrea, in bocca al lupo. Crepi, lo dici tu, però in bocca al lupo lo ripeto io. Grande Juve, forza Juventus. Cheers. Cheers.